L'inquinamento nella Valle del Mela è certificato anche dall'ARPA che nella relazione dello scorso anno contenente i dati del 2017 ha evidenziato la massiccia presenza di sostanze nocive nell'aria, in quell'aria che gli abitanti del vasto comprensorio continuano a respirare ogni giorno. Quella di Milazzo è tra le zone più inquinate in Italia, eppure la questione non sembra interessare. Queste immagini sono state scattate sabato sera, nel mirino la raffineria che con i suoi fumi velenosi ammorba l'aria. Quelli che vediamo nel caso specifico sono i vapori prodotti al raffreddamento degli impianti, ma il problema inquinamento resta ed è attuale. La Valle del Mela sta infatti pagando un prezzo troppo alto alle attività industriali impiantate in un territorio che avrebbe potuto sviluppare altre potenzialità come quelle turistiche e che invece oggi fa i conti con l'inquinamento e la morte. La salute dei cittadini è esposta a rischi continui e c'è stato anche chi, in modo scellerato e criminale, ha ipotizzato pure la creazione di un impianto per la gestione dei rifiuti, chiamiamolo pure inceneritore, nell'ambito della riconversione della centrale elettrica Edipower a San Filippo del Mela, progetto ora sponsorizzato dalla Lega che si è schierata a favore. Intanto comuni ed associazioni del comprensorio contestano il decreto d'autorizzazione integrata ambientale, AIA della RAM, e si sono rivolte al Tribunale Amministrativo di Catania. Chiedono il parziale annullamento dell'AIA rilasciata alla raffineria Anyquait e il ripristino delle prescrizioni sanitarie che il sindaco di Milazzo e il commissario di San Filippo del Mela prima avevano richiesto per poi fare un passo indietro, accontentandosi di uno studio epidemiologico. La battaglia delle escezioni ambientaliste prosegue e nel comprensorio di Milazzo le morti per tumore sono all'ordine del giorno.